Ciao e vengono a Zucale! Ecco, due Minions sono morti. Dopo l'urlo di Sala, due Minions li abbiamo persi. Di Sala? Di Sala, Sala! Abbiamo perso i Minions. Allora, perché è andata in Sala? Allora, che cosa stiamo facendo? Stiamo impazzendo, perché i Minions sono veramente tanti, i Minions dell'Happy Meal. E sono, abbiamo detto, 60, ne abbiamo 32, abbiamo superato la metà la volta scorsa. Tutti i Minions presenti nella collezione, che potete vedere sul sito, sull'app, andando in Happy Meal, e poi vedete tutti i tipi di Minions che sono, ne mancano tanti e belli. Allora, questo che vi stiamo per far vedere, non è una coppia proprio coppiosa, perché questi due sono abbinati. Questi due sono abbinati, questi due sono abbinati, il vampiro è abbinato con lei perché la deve mordere, lei deve far andare sul palco la ballerina, lui ha creato questo mostro, lui è il robot, non lo so, e il golfista, non so che cosa c'entra. Questo non l'abbiamo fatto vedere, l'angelo? L'angelo è abbinato con un bambino, boh, non so perché si è abbinato. E alcuni sono abbinati non tanto. Però questo, proprio, non c'entra niente. Abbiamo una signora in costume tipo negli anni 30-40. Più uno che disegna. Che dipinge. Allora, forse ho trovato la spiegazione. Lui ha appena dipinto la vasca da bagno, lei è pronta per andare in vasca? Oppure lui ha dipinto un paesaggio marino, ma lei ha dipinto di rosso poi. No, di rosa. Sai che siccome queste credo che siano pennellate fatte a mano, sarebbe carino trovare un altro per vedere se sono uguali. Allora, ma, intanto che vi facciamo vedere questi due che sono gli ultimi arrivati e io non so più dove metterli, li metteremo qua di lato e l'inquadratura sta diventando gigantesca. Vi ricordo, anzi facciamo così, mettiamo i classici qua. No, mettili tu. E vi ricordo che di tutti questi 60 o in questo caso i 32 che abbiamo, cioè abbiamo superato, o 34 adesso, no, mettili lì al loro posto. Potete trovarli dorati come questi due qua. Noi abbiamo trovato solo due dorati. E abbiamo trovato anche alcuni doppi. Il mio preferito è questo. Ma la domanda è, pesiamo 120 kg? Come fate ad avere tutti questi Minions? Perché poi ce lo chiedono nei messaggi. Come fate ad avere tutti questi Minions? Le nonne vanno ogni tanto a Mac, i cugini più grandi vanno a Mac che non fanno la collezione, qualche amico che non fa la collezione ce li dà e quindi, oppure alcuni li scambiamo e quindi riusciamo ad averne un po' di più. Quindi i dorati li piazziamo qua. Quindi questi sono, perché ne manca uno? 3, 6, 7, 3, 6, 7, 3, 6, 7, 3, 7, 14, 21, 28, 23, 24, no, giusto. Ne abbiamo 34. Abbiamo superato la metà di ben 4. Andiamo verso la fine, cosa che mi auguro di riuscire a fare. E come sempre Noi vi sentiamoci in un prossimo video, ciao!